Il motorino smarmittato, quando volevo cominciare... ottimo! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Questa mattina è sabato per la cronaca... sì, voi mi direte no, è domenica, no. Per me è sabato, perché sto girando il video questa mattina. Il video, amica, lo posso girare domenica mattina, e uscire alle otto. Devo girarlo, poi devo montarlo, fare qualche taglio, poi devo elaborarlo, poi devo caricarlo su YouTube, ma questo sarà l'argomento del giorno. Per ora andiamo avanti. Intanto è un sabato mattina un pochino uggioso, stamattina alle sette ha piovuto, non mi lamento perché... naso sempre chiuso, ma respiro un po' meglio, santa allergia, che per stamattina almeno mi sta lasciando in pace. Meno polline in giro. Allora, lo youtuber di oggi, lo youtuber di cui vi parlerò oggi, si chiama Roberto Cordero wow, ho il maglione... ecco fatto... si chiama Roberto Cordero e voi direte subito «Oh, finalmente uno youtuber italiano». No, Roberto Cordero non è italiano, è portoricano e parla inglese, ecco. Non vi preoccupate, arriveremo anche agli youtuber italiani, ma per il momento quelli che voglio consigliarvi sono youtuber dell'oltreoceano. Sono youtuber dell'oltreoceano per molti motivi, soprattutto per la qualità dei contenuti. In realtà l'atoreste già conoscerlo, perché adesso vi metto il link alla descrizione, però se vi ricordate, se avete visto il vlog scorso, io vi ho parlato dei Veda. E... uno degli youtuber grazie al quale sono venuto a conoscere bene i Veda è stato proprio Roberto Cordero e io nello scorso vlog vi ho detto che vi avrei fatto vedere cos'era un Veda, vi ho linkato la playlist di Veda 2013 proprio di Roberto Cordero. Ora, al di là dei Veda, Roberto fa filmati dove parla della tecnologia, fa video, fa vlog dove parla del suo rapporto con la tecnologia, del suo rapporto con le persone... ha fatto due video che considero molto simpatici. Uno... vi metto il link alla descrizione di entrambi i video. Uno dei video riguarda la notte degli Oscar, quella storia del selfie di compagnia fatto da tutti assieme appassionatamente, e una risposta a questo discorso io vi metto il link alla descrizione, non vi dico nulla, lascio solo dire che il finale mi ha veramente ammazzato dalle risate. E il secondo video fa parte dei Veda 2014, oggi è il 5 aprile, Roberto ha cominciato i Veda quest'anno, e ieri ha pubblicato il quarto Veda, tecnicamente oggi è il 5 aprile, oggi uscirà il quinto però, dato la differenza di fuso orario riuscirò a vedere il quinto video probabilmente nel pomeriggio stasera, e ieri ha pubblicato un video per i Veda che riguarda i Minion... si chiamano Minion, non l'ho ancora visto, ho rinviato la visione, del film Cattivissimo Me. Vi metto il link alla descrizione di... anche di questo video, che è stato molto simpatico soprattutto l'avventura che ci va a raccontare, è molto carina, molto divertente, e vi consiglio di iscrivervi al suo canale, vi consiglio di guardare i suoi filmati. Roberto è una persona molto simpatica, molto gentile, una persona che tende a rispondere ai commenti, gli ho mandato un messaggio, mi ha anche risposto, è una persona che mi ha ispirato, anche lui è uno dei pochi youtuber che mi hanno ispirato proprio ad aprire il canale youtube, e lo ha fatto per un motivo che non vi ho ancora accennato, ve lo accenno solamente perché è una cosa che si nota ma non si nota. Roberto è uno youtuber legalmente cieco, non è in grado di rivedere molto correttamente, ha gravi problemi di vista, ma ciò nonostante ha una grande forza, una grande forza di volontà, e soprattutto nei suoi video è messo... salvo quando se ne parla specificamente all'argomento, generalmente è messo in secondo piano questo discorso, ed altronde ci può anche stare. E vi consiglio vi metto nella descrizione il link al suo canale, vi consiglio di guardare i suoi video, vi consiglio di iscrivervi al suo canale, cosa che mi è piaciuta moltissimo, è un termine che... non so se l'ha inventato lui, se l'ho utilizzato lui, perché lo usano adesso altri youtuber, penso che comincerò ad usarlo anche io. Lo spazio sotto il video, dove ci sono i commenti, dove ci sono le informazioni che ci mette tutto quanto, lo chiama doobly-doo. Mi piace questa cosa, dice, vi metto tutto quanto nel doobly-doo, quindi adesso vi metterò anche io le informazioni sul canale, le informazioni e tutto quanto sul doobly-doo. L'argomento del giorno riguarda non youtube in sé, ma più che altro lo riguarda principalmente la connessione ad internet. Come dicevo è sabato, perché io adesso devo fare questo benedetto filmato di sabato, perché poi ci vuole il tempo per fare l'elaborazione, anzi il computer che mi ritrovo a casa è abbastanza decente. Il problema è questa bella telecamera Allegria Mini c'ha un ottimo pregio, questa splendida qualità d'immagine, questa splendida qualità dell'audio e un piccolo difetto. Butta fuori i filmati pesantissimi, dieci minuti rifilmati arrivano a pesare quasi 800Mb. Ora, tralasciamo quei fortunati che c'hanno la connessione in fibra ottica 30Mb 3Mb a quegli altri che c'hanno quella 100Mb 10Mb rosico rosico rosico... no, io c'ho la... c'ho la 20Mb. La 20Mb con un Mb in upload, dovrebbe essere una connessione relativamente decente, ma quando io ho sottoscritto l'abbonamento alla 20Mb costava un porcaio di soldi, parliamo, tipo oltre al canone telefonico sui 45€ al mese, e poi però giustamente il costo è sceso, è sceso, adesso siamo tra i... credo 24-25€ al mese, forse 23-95, 24-95... e uno dice «Beh, dai, insomma, una 20Mb, un Mb in upload, 24-25€... ci può stare». Il problema non è sceso solo il prezzo, il problema è scesa pure la velocità della DSL, cioè se prima, quando io ho fatto la 20Mb, avevo materialmente una condizione in cui avevo una portante da 18.919.000 e una portante in upload 980-990, e ci stava molto bene, adesso io già porto una portante di 14.500, la portante in upload di 780... la velocità complessiva che è genericamente più bassa, complimenti a questo signore che ha lasciato il camion e ci passo per un centimetro per lato... stavo dicendo, la velocità è relativamente genericamente abbassata, quindi non è che sia proprio questo granché, però sopportiamo . Quando sono fuori ufficio, ci stanno le SIM di telefonia mobile, giravo con la chiavetta, poi con l'altra chiavetta, poi però che cosa succede? E metti la chiavetta nel computer e qua c'è Windows XP, non lo supporta, là c'è Windows 7, non lo supporta, nell'altro c'è Linux ma non riconosce la chiavetta, nell'altro c'è sistema... mamma mia! Mi sono comprato una webpocket, piccolina, simpatica, c'è la SIM ma l'accendi, Wi-Fi, si collega la qualsiasi cosa, il tablet, l'altro telefonino, il computer, il portatile, il network e via discorrendo... ma... eh, mi raccomando, due giga al mese, perché poi ti abbassiamo alla velocità che vai così lento che sembra che i datagrammi pile li portano i piccioni viaggiatori, che non me lo sto inventando, vi metto nella descrizione una cosa che si chiama RFC 1149, è meglio che vi date un'occhiata. E... dopodiché, la connessione sì, però non devi utilizzarla per farci solo VoIP, non devi utilizzarla per farci solo questo, non devi utilizzarla per farci solo quello, sì insomma, c'è una chiavetta, chiamiamola chiavetta, una webpocket, che la posso usare quando sono al... fuori dall'ufficio, fuori da casa, per le connessioni veloci, per controllare l'email, per navigare un po', dovessi utilizzarla per caricare i filmati YouTube, siamo finiti, cioè mi gioco tutto lo spazio disponibile nel giro di un giorno. Comunque, io adesso sto per arrivare in Ortigia, quindi direi che per il momento concludo qua chiedendovi... facendovi due domande. La prima domanda è se vi è piaciuto questo video, fate pollice in alto, commentate e fatemi sapere come l'avete trovato. La seconda domanda riguarda invece proprio la vostra connessione. Come va la vostra connessione? Fermi! Non venite a commentare 15.000 persone, fa schifo! E fino a là purtroppo ci arriviamo molti, in molti. E manco non mi commentate, faccio la fibra ottica come sto bene! Ditemi un po', se vi... se pensate di trovarvi bene, se pensate che le cose potrebbero migliorare, se pensate che la connettività internet in Italia potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio, se alla fine vi accontentate e... Oh, io non accontento! Alla fine questa ventimega si comporta recentemente, in ufficio la sette mega, obiettivamente la connessione di casa è più veloce, quindi la posso usare per queste cose. Obiettivamente io adesso, quando finisco, perché intorno all'ora di pranzo ve l'ho finita tutta l'elaborazione e tutto quanto, metterò il filmato di 400, 500 mega, 600 mega quello che sarà in caricamento su YouTube, YouTube mi dirà 180-190 minuti rimanenti, 200 minuti rimanenti o lascio cuocere e stasera, quando il filmato è pronto, lo preparo, la descrizione, il contenuto, i vari canali, il link al Roberto Cordero e via discorrendo, e domani mattina alle 8 potrete vedere anzi per voi che vedete questa mattina alle 8 potrete vedere questo filmato tranquillamente. Oh, sta uscendo il sole, ci sono sempre quattro nuvolette, però la situazione sta migliorando, è una giornata che sta prendendo la giusta piega. Io ripeto, grazie al fatto che ha piovigginato, ha piovuto non tanto forte, innanzitutto ha piovuto la sabbia del Sahara, la mia macchina è in condizioni disastrate e io... stamattina dovevo lavare la macchina. Ora... Comunque, non vi chiedo se anche a voi vi piove quando si... avete cominciato a lavare la macchina, perché me lo immagino. Poi quello che vi chiedo, appunto, fatemi sapere nei commenti non solo se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto come va la vostra connessione ad internet, se c'avete la chiavetta, se non siete coperti da DSL, se c'avete la filtra ottica... ma fate rosicà! Vabbè, che ci devo fare? Qua a Siracusa stanno scavando ste trincee larghe dieci centimetri, vediamo se fra un po', dobbiamo arrivare con la fibre ottica a novembre, poi dicembre, poi gennaio, siamo ad aprile, ancora stanno scavando e stirando ste fibre ottiche. Ci arriveremo prima o poi, più poi che prima, nel 2013, come diceva qualcuno. E dai, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. E un'ultima cosa, proprio l'ultimissima. Vi saluto, ci vediamo domenica prossima, con il prossimo filmato. E prima di concludere, le do l'ultimo saluto... ... non l'ultimo, l'estremo saluto. Voglio offrire un mio saluto, sto per entrare nel talete, quindi siamo alla fine. Il mio ultimo saluto a Roberto, che stamattina mi ha risposto al messaggio che gli ho mandato ieri, citandogli questa situazione. Hi Roberto, thank you for replying me. I hope you're doing well too.